buongiorno a tutti sono sandro tognazzi e vi vorrei parlare che stamattina come al solito io vado quando mi alzo vado in cucina perché faccio una spremuta di limone poi aggiungo dell'acqua tiepida per bere in cucina cosa trovo un pinguino perché adesso fa parecchio freddo in casa perché i riscaldamenti sono stati molto ridotti e diventa una cosa come essere al polo non so io se qui non alzano un po' i caloriferi diventa una cosa pazzesca perché siamo arrivati ad avere in casa dei pinguini che non so io loro si troveranno bene naturalmente ma noi che non siamo abituati ci fa gelare veramente una cosa pazzesca speriamo che riescano a fare qualche cosa e di aumentare un po' la 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 caloria in casa perché se no saremo invasi da questi pinguini vi farò sapere com'è andata a finire questa storia e vi saluto tutti grazie